Questa è l'ennesima fiducia che il Governo pone in sede di conversione di un decreto legge. È intollerabile. Il Parlamento è decittimato e si limita a ratificare decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri, presieduto da una persona non eletta né voluta dal popolo. Nel suo discorso di reinsediamento, il Capo dello Stato aveva sottolineato l'esigenza di recuperare il ruolo del Parlamento nell'assunzione delle decisioni. La maggioranza aveva applaudito, fingendo di non capire il significato di quel richiamo del Presidente Mattarella. Da allora invece c'è stata una nuova escalation di ripudio della funzione parlamentare da parte del Presidente Draghi e della sua maggioranza timorosa, obbediente, rinunciataria e supina. Abbiamo assistito a una censura costante delle due Camere. Addirittura il Governo è arrivato a mandare armi all'estero in virtù di una risoluzione approvata dal Parlamento senza più precisare e riferire alcunché in merito alla guerra in Ucraina, alle scelte compiute e alla linea stabilita. Oggi dovevamo parlare di riaperture, di come uscire dall'emergenza sanitaria per non ritornarci, di come consentire al Paese di ripartire, di ripresa dell'economia e dei servizi essenziali, dopo due anni di paure, limitazioni, ricatti, tessere di regime, bugie, oscaruntismo e teatro di palazzo. Ancora una volta, invece, il confronto di merito è cancellato. Le minoranze sono calpestate e il Governo aspessa soltanto il rituale del voto di maggioranza, assicurato dal diffuso desiderio di poltrone e riconferme che serpeggia in Parlamento. Avete rimesso ancora una volta la fiducia e l'avete fatto per evitare i contrasti di maggioranza, che sono chiari e crescenza. Fiducia equivale all'ora sordina, anzi è il vostro anestetico preferito, per narcotizzare il dibattito e nascondere i problemi. Questo DDL riapertura è caotico e contraddittorio, quanto l'è stato finora la gestione del Covid, è lo specchio del disordine mentale e morale che domina nelle stanze dei bottoni e la conferma che in Italia non esiste la democrazia, ma c'è una torchia mascherata dalla convenienza e scarmata da una terribile ruffianeria e mancanza di libertà personale. Alternativa vota contro questa fiducia, per coscienza, coerenza e il nome del popolo italiano.